La Mela di Aism è un evento di raccolta fondi che si svolge dall'1 al 4 ottobre in tutte le piazze d'Italia. Raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla è l'unica strada che abbiamo per combattere una malattia di cui non si conoscono le cause e di cui si stanno ancora cercando le cure definitive. I numeri sono alti, 130.000 persone con SM in Italia, il 10% sono bambini e il 50% giovani sotto i 40 anni. Quindi basterebbero questi numeri per sensibilizzare tutti a sostenerci e ad aiutare a ricercare i fondi per la sclerosi multipla. Il Dono Day che si svolge il 4 ottobre è l'aggiata del dono e l'occasione che ha Aism per sensibilizzare all'importanza di donare il proprio tempo ma anche le proprie risorse per una causa superiore. In questo caso un mondo libero alla sclerosi multipla non è più una utopia ma può realizzarsi col contributo di ciascuno di noi. Chiediamo intanto di informarsi e darci la possibilità di raggiungere quante più persone possibile. Sensibilizzare su una malattia cronica degenerativa come questa i cui sintomi spesso sono invisibili vuol dire cambiare la qualità e la vita delle persone. Con un'offerta di 9 euro riceverete un sacchetto di mele, potete scegliere gialle, verdi o rosse. Sarà il simbolo di una lotta alla sclerosi multipla che si fa a partire da colori e da profumi. Qual è la speranza che lanciamo alle persone purtroppo affette di sclerosi multipla perché è una malattia subdola, latente? Più che una speranza mi sento di parlare di una certezza. Aism è da oltre 50 anni al fianco delle persone, si occupa di diritti, di assistenza, di supporto e soprattutto di ricerca. Nessuno deve sentirsi solo e la cittadinanza deve sapere che Aism ha bisogno del contributo di tutti per poter realizzare i propri obiettivi.